A livello locale tutte le forze politiche hanno espresso da tempo un no forte all'inceneritore a Mogliano ma anche in tutti i nostri comuni vicini, vedo che molte comitate, molte forze politiche stiano adesso facendo sul campo la vera politica, cioè quella forte opposizione che deve fare per forza riflettere le forze politiche regionali che ancora sono indecise sull'inceneritore, che ancora sono confuse su quello che è la posizione da prendere. Per noi la posizione da prendere è un forte no, per noi attualmente l'inceneritore è unicamente un grande affare, un business fatto per poche persone e adesso non farò tanti discorsi, citerò dei numeri, dei numeri che credo fanno la brividire, grazie anche all'intervento di Fanton abbiamo capito quali sono i numeri veri dell'inceneritore, io ne cito altri, sono numeri più che altro economici, l'inceneritore, quello previsto a Bonigiovo, prevede di poter ospitare 250.000 tonnellate l'anno, bene sappiamo benissimo che i nostri rifiuti industriali speciali, perché per questo l'inceneritore, quelli prodotti da Treviso, da Belluno e anche da Venezia sono di misura assai inferiore, si parla di circa, mi collega assessore, 50.000 forse tonnellate l'anno, 250.000 tonnellate, circa facciamo conto della serva, quello che spesso serve per azzeccare i numeri, se immaginiamo che bruciare o smaltire una tonnellata possa valere 210 euro a tonnellata, il conto viene facile, un inceneritore è un affare da 60 milioni di euro l'anno, un affare che impiega pochissime persone, 30 o 40 persone l'anno, ci dicono che costa 200.000 euro l'anno costruito, beh per me costa molto, molto, molto meno, è una tecnologia ormai obsoleta, ce lo dicono tutti, più o meno costa, noi abbiamo fatto una stima di 45 milioni di euro l'anno, cioè da questi numeri si dice che in un anno un'industria avrebbe già recuperato ben più di quello che dice di dover spendere per investire, insomma se non è un grande affare questo, un affare immenso che si vuole fare, lo dico la sindaco, sul rischio della salute dei nostri cittadini, e questa cosa noi non possiamo tollerare, un affare che non serve a nulla se non alle tasche di poche persone. A Mogliano do l'ultima notizia, una notizia vera che ci ha confortato tutti quanti, ogni battaglia può essere vinta. La scorsa settimana, gli scorsi giorni, abbiamo appena vinto una battaglia per una discarica che volevano insegnare a Zermano, una battaglia vinta a due livelli, al TAR e al Consiglio di Stato. È un rischio per la salute, è un rischio anche per i nostri stessi territori, è un rischio anche per le nostre stesse economie, lo sapete benissimo, solamente l'annuncio dell'inceneritore ha già fatto ammesso di infibillazione del mercato immobiliare in tutti i nostri territori. La nostra città è fortemente contraria, l'abbiamo detto. Adesso chi deve dimostrarlo di essere sono quei consiglieri comunali che forse stasera hanno disertato volutamente, regionali, che hanno disertato volutamente l'Assemblea. Abbiamo sottoscritto con i comuni limitrofi al Comune di Mogliano, con Casal Sussile, con Marcon, Quartodaltino e Preganziano, una convenzione volta a incaricare dei professionisti specializzati che supportino il nostro nuovo impianto e producano un parere tecnico giuridico da utilizzare in sede di commissione via. Quella commissione tecnica che sta valutando il progetto e che oggi ha finito, ha concluso l'iter iniziale, la fase che si chiama l'istruttoria preliminare. Oggi la palla è in mano al proponente e il progetto verrà anche illustrato da parte del proponente in una sala come questa, in una serata come questa, proprio per legge. Dovranno illustrare e mostrarci quello che è il progetto. Dopodiché si concludono questi 60 giorni. La commissione via, adesso ve la faccio in breve, la legge è molto più complessa. La commissione via analizza le osservazioni, dà delle risposte e prepara un parere per la giunta regionale del Veneto che poi andrà ad esprimersi, ad approvare o meno il progetto. Dico solamente questo, oggi abbiamo vinto una battaglia da poco, è stata chiusa la partita della discarica di Zermani e tutti, tutti ripeto, dobbiamo combattere questa nuova battaglia contro quello che è un vero e proprio mostro. Per farvi capire, intanto questo è un ingegneritore per i fiuti urbani, quello di Boniseolo, di Selea, sono per i fiuti industriali e sarebbero i più grandi d'Europa. Oggi i più grandi in Europa è in Danimarca e produce 140.000 tonnellate. Qui solo uno, parliamo di 250.000. Ecco, il cammino, per avere un'indicazione, sono stati su questa griglia mobile che produce ceneri e scorie di metalli, produce anche del vapore che poi verrà sfruttato da un'industria per creare energia. Rifiuti prodotti dall'agricoltura, rifiuti dei processi chimici, rifiuti provenienti dall'industria fotografica, solventi, imballaggi e stracci, fanghi, prodotti dal trattamento delle acque, macchine obsolete, fuori uso, lavorazione delle pelli e via. Rifiuti della refinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento periodico del carbone. Rifiuti di produzione, pitture, vernici e smalti vetrati. Rifiuti prodotti dalla lavorazione di metalli e plastica. Imballaggi, compresi rifiuti urbani, di imballaggio oggetto di raccolta differenziata. E questa è una cosa un po' strana. Poi veicoli fuori uso, pneumatici, plastica, rifiuti della pulizia di serbatoi, petrasporto e stoccasio di fusti. Poi rifiuti delle operazioni di costruzioni e demolizioni, compreso il terreno proveniente da siti contaminati. Rifiuti prodotti dal settore sanitario, rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani e negli animali. Rifiuti poi prodotti dai piatti di trattamento dei rifiuti, fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico, rifiuti prodotti dai piatti di trattamento delle acque, rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio. Rifiuti prodotti dall'operazione di bonifica di terreni e di sanamento delle acque.